Un giudizio negativo, quello espresso dal dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Paolo Vasanella nei confronti del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e della sua giunta. Delle promesse fatte alla cittadinanza in campagna elettorale annunciando un programma che secondo Vasanella era veniristico e che dipingeva la Giulianova del 2020, ben poco sarebbe stato fatto. L'esponente politico di destra parla di città abbandonata accusando inoltre il primo cittadino giuliese di aver dato i numeri all'otto nella conferenza stampa di fine anno a proposito di cose già realizzate. Questa città è ridotta ai minimi termini. Oggi se si fa un giro per la città i cittadini tutti quanti si lamentano, io non capisco poi tutti quanti si lamentano ma chi l'ha votato questo signore perché qualcuno l'avrà votato per ricoprire questo ruolo però di fatto non si sta concretizzando niente. Allora noi diciamo su quello che è stato, saranno cittadini a valutare ampiamente senza sa e senza ma il comportamento di questa amministrazione e di questo sindaco. In città dunque già tempo di campagna elettorale ma quali sono le idee che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale intende mettere sul campo? Il turismo è sicuramente al primo posto tenuto conto che muove un'economia importante e un occhio di riguardo anche allo sport. Aprire un dialogo con gli operatori turistici che sono commercianti affinché si diano delle risposte concrete a questa città. Quindi sulla politica del lavoro si può agire appunto nella riduzione delle tasse, sul discorso con i commercianti si deve agire un discorso di collaborazione, dare incentivi ai commercianti per far sì che si possa istituire perché no anche la cosiddetta via pedonale. Però è chiaro che la via pedonale se la si deve realizzare va fatta attraverso una costruzione del servizio intorno a questa via pedonale. Per quanto riguarda lo sport puntiamo a fare un palazzetto dello sport degno di tale nome che abbia almeno 2 o 3 mila posti per poter sfruttare una realtà di questo tipo. La città ne ha bisogno, oramai da tanti anni se ne parla però non riusciamo ancora a concretizzare nulla in questo senso. Grazie.